A Chiaravalle Centrale, nel rione Cona, un fantastico presepe. Con la benedizione dei frati cappuccini del convento di Chiaravalle Centrale, grazie all'impegno della famiglia Franzè, è stato allestito un fantastico presepe e, vista la presenza numerosa da parte dei visitatori, è stata accolta con tanta devozione. Piccolo, ma pieno di significato, vi lasciamo alle immagini. Piccolo, ma pieno di significato, vi lasciamo alle. 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 Grazie a tutti.